Ciao ragazzi, io sono Falconer e oggi sono qua con uno scopriamo molto particolare e inatteso, devo dire la verità, perché siamo impegnati, come potete vedere, con Batman The Telltale Series. Voi sapete bene cosa penso riguardo ai giochi Telltale, nel senso che mi piacciono tanto, ma odio profondamente la compagnia perché non traduce mai niente, ed è il motivo per cui questo sarà uno scopriamo un po' atipico, nel senso che io giocherò una porzione di questo primo episodio che è già disponibile, non lo completerò per il semplice fatto che una serie su questo gioco in inglese sarebbe improponibile sul canale, però aspettatevi, dopo questo scopriamo che sto facendo semplicemente per farvi vedere com'è il Batman targato Telltale, aspettatevi una recensione completa a brevissimo. Fatta questa doverosa premessa, come affronterò il gioco, non vi tradurrò chiaramente parola per parola tutto quello che accadrà perché sarebbe impossibile, nei momenti morti vi dirò il senso di quello che sarà succedendo, per cui sarà una cosa un po' atipica anche per me da fare, perché insomma non sono abituato a fare questo tipo di traduzioni mentre giochiamo, però insomma sarà un esperimento che chissà potremo anche ripetere in futuro. Detto questo, partiamo, premiamo A per iniziare e sono curiosissimo perché, ripeto, io adoro la roba del Telltale ma ho questa sorta di amore e odio per colpa del loro approccio al pubblico italiano, però c'è poco da fare. Allora, non adesso perché abbiamo altre cose da fare. Dunque, allora, l'episodio 1, il reame delle ombre. Qui dice, Bruce Wayne naviga nelle acque tempestude di Gotham, della politica di Gotham, mentre una serie di scioccanti rivelazioni vengono a galla, mentre Batman si confronta con il più noto boss del crimine di Gotham. Allora, qua altre cose, vabbè, season pass, penso che... no, cosa sto facendo, perdonatemi. Questo, vabbè, ce l'hanno mandato tutto fortunatamente, per cui potremo fare recensioni su recensioni man mano che il gioco andrà avanti. Io direi di partire, se no qua non se ne esce. E vediamo com'è. Allora, aggiustiamo... io sono uno per la luminosità accesa nei giochi. Allora, dobbiamo scegliere un colore per la nostra tecnologia di Batman. Io direi di andare... ma sapete che il rosso è molto carino, però io sono amante del blu. E andiamo di blu. Allora, il gioco si adatta alle scelte che compi, vabbè, questa è la classica frase che troviamo prima di ogni gioco Telltale. Ehi, cosa ti... Ehi, cosa ti... Vabbè, comincia benissimo. Tra l'altro ho messo i sottotiri più grandi che si possa, insomma, perché c'è l'opzione per scegliere anche la dimensione, per cui spero che quantomeno vi aiuti a godervelo meglio. Penso che si stiano chiedendo se Batman apparirà oppure no. Perché hanno detto pensi... pensi che verrà? Penso si riferissero proprio a Batman. Oh, la mia... Oh, la mia... Malciate! Oh, la mia... Andiamo! Gordon. Sono sul pò 52. Sto in. Ehi! Aspettate! Aspettate per il backup! Non bisogna. Aspettate le stagioni! Ho sentito storie, sai? Senti 3 in un'ambulanza. Il resto, in bagli di corpo. Non è vero che i giocatori vogliono morire. Hai mai visto? Sì, a Gotham Zoo. Per tutti gli altri animali. Eccoci! Iniziate a tremare, miei cari. C'era l'ambulanza. Oh! Ah! la mia no ma 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 classica conversazione classica conversazione in cui dice non puoi continuare così e io ho risposto i criminali hanno bisogno di qualcuno da temere in città va la verità sarà interessante vedere come telltale affronterà un gioco una serie un brand così action o ci saranno quick time events a pioggia o per l'appunto per l'appunto a a a non l'avevo capito mamma mamma mia sono terrorizzati palesemente mi piace mi piace che ci fanno fare tutto a noi praticamente non c'è non c'è nulla di di automatizzato io potrei anche fallirle ste cose volendo e dunque ah ok ce l'ho per ora comunque lo vedo estremamente fedele al brand che sai che fare attenzione a non trasformarti in un mostro cercando di diventare una sorta di mito e lui ha risposto alcune volte c'è bisogno di un mostro oh man l'ho fatto a sinistra maledizione sono concentratissimo mamma mia che tramva clamorosa ah 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 con lei sarà un po' più complicata l'applicazione credo come impone ormai la tradizione poi la polizia ci vuole arrestare arrivederci se vuoi essere intimidato ti succederai i criminali si fanno freddo di te e così sono le polizie è una tattica scuola solo una performance senza una scuola quello non ti appartiene quello non ti appartiene ma che cos'è poi qui vabbè lei ci ha chiesto perchè lo facciamo e gli ho risposto perchè la città deve essere protetta la versione è piuttosto coatta di Batman comunque l'hanno voluto fare ah ah dai che stiamo andando bene mi spaventa questa mi spaventa questa quantità veramente spropositata di di quick time events veramente tanti mi spaventa non ma nooo presa ti prego presa non 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 l'ho preso non so cos'è ma l'ho preso nooo cioè perchè passare tutti quei quei guai per quello nooo ma perchè è cretino quello che Alfred gli ha detto prima le leggende non possono essere uccise tu si no porco giuda ah credo che buttandolo ho fatto in tempo incredibilmente pensavo di aver lisciato miseramente invece bravo come sempre il margine di errore comunque non sembra proprio altissimo nel senso uno può anche sballicchiare qua e la e il risultato viene comunque bene perchè la veramente secondo me ho ciccato e me l'ha data buona eh parla o ti faccio cadere eh parla o ti faccio cadere bene volevo sapere qualcosa di più su quello che stava cercando di rubare ma la tipa ovviamente l'amatissima catwoman si conferma sfuggente esci dalle ombre e si Bruce Wayne questa notte e si Bruce Wayne questa notte e si Bruce Wayne questa notte non lasci le tombstone essere la tua famiglia bene è il momento di salvare la città è il momento di salvare la città Bene ragazzi io direi che su questo punto ci potremmo anche interrompere per adesso Fermo restando che appunto come vi anticipavo precedentemente A inizio video insomma ci sarà a brevissimo Penso tra un paio di giorni al massimo Una recensione in cui vi dirò come la penso su questo episodio Questo primo episodio che intendo finire appunto a brevissimo Mi sarebbe tanto piaciuto farlo tutto sul canale Non lo nego Però appunto questo fatto che sia solamente in inglese Limita non solamente il coinvolgimento da parte vostra Ma anche la bontà di una serie che Dovendo essere tradotta con una quantità di testo folle Verrebbe fuori oggettivamente male secondo i miei gusti Per cui preferisco limitarmi a una recensione per consigliarvi Eventualmente se prenderlo oppure no Detto questo spero che comunque questo primo video Questo scopriamo inaspettato vi abbia fatto piacere Se avete chiaramente domande particolari sul gioco Fatevene tranquillamente nei commenti Per il resto ripeto aspettatevi una recensione a brevissimo Per cui ragazzi niente io vi ringrazio come sempre avermi seguito Vi do appuntamento alla prossima Ciao ragazzi Grazie a tutti